Non c'è la bottiglia che ci andiamo ad operare? Sì, non c'è la bottiglia che ci andiamo ad operare. No, no, mamma mia, l'interviziale. Allora, abbiamo un tè, un bottiglietto d'acqua e un quilotto, giusto? Sì, il tè non vuoi niente, è sicuro. Caffè? No, niente. Vuoi la bottiglia e vino quella cosa? Pasta lì. Quanto è il quilotto? Non c'è la bottiglia. È la sita. È la lupo cosa, ma... Fa freddo, e tu... Fa freddo. E io mi sputti, e ti fa freddo e ti fa freddo. E il cazzo non mi fa freddo. E tu, non apri. C'è la cinde responsabile. Allora, abbiamo... Oggi ci fanno diversi. Cazzo, ok. Tu che c'è stai a registrare? No! Stai a registrare? Sì, sì. Stai a registrare? Non pulisci di oggi. Io adesso lo metto pulito. È bello pulito. No, lo metto pulito. E li lavare per terra. C´ incol Student. I grandi saper... E gliel нак opportunity? E una patenella sul giusto. I piccoli di. C'è la roba, io non c'è il servizio. E la mancini non c'è tanto. I piccoli di. perché non è vero? no no, a me va bene andranno a contrattare quelli dell'incidente ma questi rimangono qua? lo metto sotto? questi tutti di cuo non dice che tu fai un piatto di spaghetti? non è meglio lasciate 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 non è la 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 e quello quando metto il ginseng come faccio? la mattina questo fuori il tavolo è sistemato tavolo fuori sopra allora aspetta aspetta lo metto in un'altra parte dopo lo sistemano loro ahahahhah ahahah qui manda a tutti qui ci puoi sapere un lago tutto ci puoi fare tutto ci ha metto quello che ci metti fuori la stufa non c'ha un pezzo la stufa non c'ha un pezzo no, è pure la salute ho l'olio c'ha niente c'ha un pezzo Quattro d'ora e basta. Grazie mille. Ciao. Tu hai rimasto un altro mese senza pagare? No, dopo due mesi ho pagato molto. Buon anno? Questo è più dopo due mesi. Quattro è per queste cose? Tu hai capito tutto? Tutte queste cose. No, più grande problema, capisci? Eh, lo so. Quanto caffè ho preso qui oggi? Sì, però deve parlare, no? Parlare anche. Ma quale mezzo? Ha detto di dar lui il mese di semplice? Eh, vero perché lui è andato via a gennaio. Lui è andato via a gennaio. Che panina ha fatto? Non importa. Il pomodoro non ha visto. Perché non c'è il pomodoro? No. Si accada bene, no? No, e poi non c'è il pomodoro. Lascia stare. Vuoi? Non c'è niente. Allora qua. Aspetta, aspetta. Fammi bere il caffè. Come cazzo arrivi, come cazzo vai. Però non si può. Spinge, spinge. Spinge, spinge. E vengua.